Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI in direzione Firenze rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. È chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita provenendo da Livorno in entrata in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per i treni, a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Marradia e Faenza. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!